Perché Education è digitale? Perché siamo in un momento in cui il mondo e il lavoro sta cambiando rapidissimamente e quindi l'istruzione e la formazione è essenziale per riuscire ad affrontare questi cambiamenti in modo veloce e anticipandoli il più possibile. Il digitale lo sta completamente trasformando, il mondo del lavoro nascono nuove professioni, spariscono altre professioni e quindi l'allineamento e la propulsione che può arrivare dal mondo universitario è fondamentale. Dobbiamo tutti ricordarci che il grande successo della Silicon Valley, che è il posto in cui nasce tutta l'innovazione o gran parte dell'innovazione sul mercato, nasce grazie anche e forse soprattutto a Stanford. Quindi il rapporto industria e formazione è essenziale per il successo che l'impresa e il sistema può avere sul mercato. Un elemento che è emerso forse non nella potenza in cui mi aspettavo è che secondo me per attrarre i talenti dobbiamo imparare a raccontare storie. Cioè se io penso una fondamentale differenza che c'è tra l'Italia e gli Stati Uniti è che negli Stati Uniti riescono a raccontare storie e quindi riescono a fare innamorare i ragazzi delle nuove tecnologie, per esempio, dei nuovi lavori. Ecco, io quello che mi porto a casa oggi è che dobbiamo certamente come sistema e come università, come sistema industria e università, imparare a raccontare storie e fare innamorare i ragazzi di quello che facciamo e quello che faremo. Grazie.